Grande fratello, VIP6, riassunto della 45esima puntata andata in onda ieri 28 febbraio. Due eliminati, eccoli qua, Nathalie e Alessandro, sorpresa al televoto, ma scopriamo insieme che cosa è accaduto. Si inizia la puntata aggiornando Delia Duran di dove si trovi suo marito Alex Belli. Lui pare sia davvero in Egitto e in modalità subacquea, attornato dai pesciolini giagli e rossi, Alex invia un messaggio a Delia. Nella casa tutti contro Miriana, la coalizione è formata da Delia Duran, Sole e Sergei e anche Nathalie Caldonazzo. Quest'ultimo infatti erano migliori amiche, ma poi il suo pensiero per Miriana Trevisan è completamente cambiato. Colpo di scena, poi dallo studio, Sonia Bruganelli difende Nathalie Caldonazzo, dicendo alla casa che la concorrente dice semplicemente la verità, in modo forse molto diretto. Ha anche inchiodato Lulù e Celassie, sempre la stessa Sonia, che si è lamentata del fatto che Nathalie mette bocca sul rapporto tra Jessica e Baru, ma poi ha sottolineato che anche Lulù ha detto ad Antonio di prendere le distanze da Nathalie e di stare più con loro. Ovviamente Lulù poi si è surriscaldata tantissimo durante questo dibattito con Sonia, però Antonio dall'altra parte ha confermato tutto. Poi Alfonso Signorini ha informato i concorrenti dell'inesistenza delle registrazioni sulle presunte frasi da squalifica di Nathalie. Nonostante ciò però Alessandro ha insistito ed era fuori controllo, tant'è che c'è stata una pesante discussione durante la pubblicità. Alessandro è riuscito a incontrare il suo figlio mentre si è parlato tanto del verissimo rapporto creato tra Nathalie e Antonio. Si passa all'eliminazione, la prima ad abbandonare la casa è Nathalie, le percentuali sono Miriana 51%, Antonio 30%, Nathalie 19%. Fine del capitolo Alex Belli delle Duranne e Sorare Sorge, Alfonso Signorini ne apre un altro dopo circa sei mesi rinchiuso nella casa del grande fratello. Rientra in scena, diciamo così, Fabrizio Corona e si parla di questo triangolo, Antonio Fabrizio Sofì. Ovviamente lei non ha confermato le parole di Fabrizio e gli dice che non è assolutamente innamorata di lui. Il secondo eliminato della puntata è stato con un televoto flash con quattro candidati all'eliminazione. L'eliminato è Alessandro. I nominati per l'eliminazione di giovedì sono Antonio, Miriana, Sofì, Giucas e Davide. Scegli chi vuoi salvare. Scrivimelo se ti va nei commenti. Io ti aspetto, iscriviti al mio canale, lasciami un like e attiva la campanellina perché solo così non potrei perderti questo ma nessun altro. Prossimo video.